Questi sono tre errori che non devi mai fare quando fai squat. Uno, prima di tutto, fare l'esecuzione in questo modo. Ricordati che le ginocchia guardano sempre verso l'esterno, come le punte dei piedi. Non tenere neanche le gambe troppo larghe, poco più larghe del bacino. E scendo e salgo. Spingo soprattutto con tutto il piede, non voglio vedere questo e neanche il peso troppo indietro. Altra cosa importante, faccio bene l'esecuzione, scendo fin dove riesco e quando salgo non iperestendo, non attivo di più i glutei e così facendo mi faccio solo male. E cosa molto importante, utilizzo le scarpe giuste, quindi con una suola piatta. Assolutamente non le running perché ci destabilizzano un sacco. Se hai altre domande scrivmelo qua sotto nei commenti e io ti risponderò.